1...2...1...1... L'unica differenza è questa parte che c'è l'armonizzata. Aspetta, aspetta che vi vedo forse un'altra idea, perché secondo me la preproduzione è abbastanza rispondente. Mettetevi d'accordo, proponetemi una cosa e vi dico simile a me. Tempo destinato a questo pezzo, due ore. C'è una faccia intelligente, vai! Grazie. 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 Grazie.